E' una giornata particolare, oggi siamo alla Carducci Trezza per quello che è la redazione di Kip News, siamo andati a trovare dei colleghi. Antonio, noi oggi abbiamo visto qualcosa di particolare, abbiamo visto un telegiornale fatto da voi. Sì, perché il nostro PON, dato che si intitola Facciamo Notizia, è sviluppato sul cercare le notizie e creare un telegiornale e stiamo momentaneamente creando un giornalino. Allora, Facciamo Notizia, quindi voi come le trovate le notizie? Insignaci. Prendiamo notizie che non sono di un giorno, sono per sempre. Questo PON, Facciamo Notizia, è che uno dei sei moduli del programma operativo nazionale del nostro istituto, in effetti ha come finalità quella di sviluppare le competenze, soprattutto per quanto riguarda la lingua italiana, sia scritta che orale, attraverso il cooperative learning e attraverso il rule play. Quindi le giovani sentinelle sul territorio che facciano poi il mestiere di giornalista. Perfetto, sì, esattamente. Anche se loro sanno che devono trovare delle notizie non da quotidiano, appunto. Quindi innanzitutto delle good news, perché Facciamo Notizia nasce proprio per parlare di notizie positive. E quindi da Facciamo Notizia, è nata poi l'idea del telegiornale, perché appunto con le 60 ore noi arriveremo anche a giugno ad avere attività, e quindi realizzeremo con parte del numero uno un telegiornale.